La condizione economica e finanziaria della città metropolitana è molto complicata e si rischia il default. Le organizzazioni sindacali auspicano però ancora un intervento risolutivo dello Stato e sono contrarie alla soluzione estreme annunciata dal sindaco metropolitano Cateno De Luga. Le responsabilità sono però anche da ricercare nel passato e su un passaggio forse troppo affrettato da province a città metropolitane in Sicilia. Sentiamo l'opinione del segretario generale Will Messina, Ivan Tripoti. Intanto c'è sicuramente un difetto d'origine nel senso che questa riforma voluta allora dal governo Renzi di abolizione delle province che poi è diventato un blef perché per abolire le province bisogna cambiare la Costituzione cosa che il popolo italiano allora con il referendum ha respinto ha creato questa situazione di assoluto caos. Il caos però è stato aggravato anche dalle scelte del governo Progetta e oggi l'esecutore materiale dell'assassino della provincia ma soprattutto delle città metropolitane anche nello stesso tempo ma soprattutto il rischio serio che stanno correndo i lavoratori è stato compiuto dal sindaco De Luga il quale ancora una volta dimostrando soltanto la ricerca del palcoscenico e dei riflettori sta facendo solo propaganda ma non sta dando risposte concrete. L'ultima vicenda, come sappiamo, quella di mettere in ferie forzate piuttosto che di chiudere Palazzo dei Leoni è una follia sotto ogni profilo. Il sindaco non ha nessuna né potere né facoltà di poter decidere di mettere in ferie il personale o viceversa di chiudere il palazzo. Queste sono competenze dei dirigenti quindi siamo alla follia. Ancora una volta De Luga dimentica di essere il sindaco di una grande città, appunto una città metropolitana e pensa di essere a Fiume di Nisi dove queste cose in ogni caso non sono ammesse ma con una dimensione da piccolo centro pensa di avere questa cultura di fare tutto e di decidere tutto per tutti. Non è così perché ci sono in ballo centinaia di posti di lavoro e noi non lo permettiamo perché è davvero una follia. Negli ultimi giorni c'è stata un'apertura da parte del Governo nazionale per questa problematica. Come la vedete? L'apertura è stata anche frutto di una sollecitazione, di un'opera di pressione che i sindacati, che la Will, la Will FPL che è la nostra categoria che segue il problema hanno portato avanti perché è inammissibile anche questo silenzio della politica. È un problema fra l'altro che tocca tutte le province della regione. Infatti vi è anche oggi in programma una manifestazione a Palermo dove la situazione è ugualmente drammatica, con stipendi non pagati, c'è tutta una serie di problematiche. Quindi è una problematica che tocca tutti perché siamo davvero al rischio di default delle città metropolitane che significa zero servizi perché le competenze con le città metropolitane nessuno fa più nulla perché non ci sono risorse e contestualmente questo rischio di una macelleria sociale che non possiamo permetterci e non permetteremo.